Tra arte e poesia, il palco del Cineteatro Rosso di San Secondo di Capodorlando ha ospitato la presentazione del docufilm Sorge il sole, una storia vera. Un emozionante film che racconta i primi quattro anni di attività del centro diurno di Naso Navacita per soggetti autistici e le difficoltà incontrate dagli operatori del centro sul territorio per dare risposte alle famiglie e anche a livello istituzionale. Storie di bambini, ragazzi, adolescenti e adulti speciali. Tanti gli ospiti dell'evento presentato da Sergio Granata che si sono alternati sul palco del teatro dopo i saluti dei sindaci di Capodorlando e Naso, Franco Ingrilli e Daniele Letizia. Durante la presentazione è stato proiettato il video pro Unicef dei bambini della 4A dell'Istituto Comunale 1 che ha spopolato sul web nelle scorse settimane. Emozionanti anche le esibizioni di Sofì Carrabba, Alessio Buscemi e Oriana Civile che hanno proposto canzoni e poesie in dialetto siciliano. Toccante la canzone Quannumoru di Rosa Balistreri, brano della colonna sonora del documfilm insieme ad Autistico di Simone Cristicchi. Momenti teatrali a cura dell'associazione Recitando e Parolando con Francesca Pietropaolo, Maria Lamonica e Sara Fazio che hanno recitato brani tratti dal libro di Serena Dandini Ferite a morte e Dietro a un grande uomo. Sul palco anche la professoressa Rosetta Vitanza che ha portato il saluto del Lions alla presenza di Agata Maiorana e Salvatore Cagliò, i nostri campioni italiani e quinti classificati ai mondiali di danza sportiva a Boston. Maria Tricoli e Maria Toscano hanno poi parlato del centro Navacita per far conoscere Sorge il Sole e la legge del dopo di noi. È stato il primo cineforum promosso dall'associazione Agora preseduta da Fulbio Mamiglia. A chiudere gli interventi il regista Piero Di Maria insieme a Laura Sapienza, sceneggiatrice del docufilm, che hanno spiegato come è nato Sorge il Sole, una storia vera.